La città di Agropoli piange Natino Liguori, figura storica della città, un imprenditore tenace e sognatore capace di costruire un'importante attività partendo da un semplice carretto di gelati. Soltanto poche settimane fa aveva festeggiato i 102 anni e nonostante l'età si continuava a vedere davanti al Baranna attività di famiglia. Oggi è un giorno triste per la nostra città, dichiara il primo cittadino Adamo Coppola, ho appena preso la notizia della morte di Natino Liguori, una delle figure maggiormente simboliche di Agropoli. Natino ha vissuto una vita dedicata al lavoro e alla famiglia e ha conosciuto gli orrori della Seconda Guerra Mondiale. Con lui se ne va un'istituzione e un pezzo della storia di Agropoli. Ai suoi familiari va il mio cordoglio e quello dell'intera amministrazione comunale, conclude il sindaco Coppola. La redazione di Cilento Channel è vicina ai familiari per la immensa perdita. E vuole ricordare, il caro Natino Liguori, con il video realizzato in occasione dei suoi cento anni. Si chiama Nunzio Liguori, il nonnino che in questo video, con disinvoltura, si accinge a tagliare della linea. Da tutti conosciuto come Natino è lo storico titolare che negli anni passati ha gestito il bar Anna insieme a sua moglie Rosa, attività presente nella centralissima piazza Vittorio Veneto ad Agropoli, che ora è portata avanti dai figli Pasquale e Maria Grazia. Natino oggi spegnerà cento candeline. Il stancabile lavoratore ci racconta attraverso un'intervista alcuni momenti della sua vita passata, sottolineando come con umiltà e onestà si possono ottenere le migliori soddisfazioni. E come fin da piccolo, a causa della perdita del papà, Natino si sia dovuto rimboccare le maniche e andare a lavorare, in un'età dove il gioco e il divertimento dovrebbero caratterizzare la vita di ogni bambino. Io ho lavorato sempre da 12-13 anni e già lavoravo, già portavo qualcosa a casa, perché penso che mio padre eravamo piccoli, mia mamma non ce la faceva più. Io a 12 anni andai a lavorare alla fornace dei mattoni, a 12 anni. Si doveva correre sempre per buttare la macchina che faceva i mattoni. Se li buttava, perdeva la ditta. Allora noi eravamo 10-15 ragazzi di correre sempre. Il lavoro più difficile per me, difficile in che senso? Di stanchezza. Ci sono gente, mia madre quando andava a casa, scusate che mi spogliava, mi faceva una lavata da testa sotto perché era troppo sudata. Era tutto rosso perché si correva sempre. Il segreto dunque di nonno Natino, che oggi lo vede spegnere 100 candiline, è sicuramente quello di aver formato il corpo attraverso il duro lavoro che negli anni ha svolto, mentre per quanto riguarda l'alimentazione ci racconta di preferire la polenta che amorevolmente gli viene preparata dai suoi cari, accompagnata da un buon bicchiere di vino. Signor Natino, ma lei, che cos'è che mangia oggigiorno per essere così in forma? Ah, che mangi? Quello che mangia da loro. E cioè? Pasta asciutta, menestrone, non so, a me quello che mi piaceva, sai, era la polenta. Ah, e ve la fanno la polenta? Ma ogni tanto me la fanno, giustamente come me la fanno. C'è mia nuova che me la fa, la mia figlia e tutti. Io sono figlio e uno che lavorava con i vini e portava sempre vino a casa. Noi eravamo piccoli, con tutto ciò che eravamo piccoli papà ce lo faceva assaggiare. E lui lavorava e il vino fa bene alla salute, però non so passare la regola. è giusto. Fare quello che si è abbastanza sofficiale. Un bicchiere. Non sono mancate parole dolci ed emozionanti per i suoi figli, nipoti e pronipoti, per tutto l'affetto che ogni giorno gli dimostrano. Loro devono lavorare con calma e con onestà. L'onestà è la prima cosa. Io voglio restare qualunque ricordo a tutti i miei figli, i miei nipoti, i miei nipotini che verranno ancora domani. E io li ringrazio e li voglio tanto bene a tutto ciò che loro mi stanno facendo. Auguri, caro nonno Natino, che la gioia e l'emozione dei tuoi occhi nel raccontare il tuo passato, nonostante le difficoltà, possa essere d'esempio a tutti coloro che ti ascolteranno.